Basket Club Irpini e Cab Zolofra sono reduci dalle rispettive trasferte schitane. Ora si torna a giocare in casa. Per la formazione avellinese, allenata da coach Luca Iannacone, impegno alle ore 18 alla palestra comunale. I bianco-verdi sperano di essere assistiti da un numeroso pubblico, così da avere il classico sesto uomo in campo. Per la formazione di Maurizio Ferrara, l'ostacolo di giornata è il San Maritana Basket, che 15 giorni fa, all'esordio, ha espugnato il campo della Procangiane in volata. Alla seconda trasferta in tre partite, la San Maritana vorrebbe abissare il successo. Per il Cab Zolofra, invece, ritorno alla Pala Santa Lucia, dove si affronterà la formazione del basket parete. Gara non semplice per i ragazzi di coach Francesco Mollica e Casertani sono uno dei migliori organici del girone B. Il Cab dovrà riscattare il primo capo interno della stagione e queste prime partite sono servite da rodaggio soprattutto per i più giovani. L'obiettivo del Solofra è provare a conquistare due punti davvero importanti.